Umbria Jazz 2011, c'è anche Prince in programma. Si aggiunge un nome al cartellone dell'Umbria Jazz Festival 2011, contribuendo a fare di questa carmesse un appuntamento imperdibile e aumentando l'elenco degli artisti che calcheranno il suolo italico nel corso del 2011, un anno pieno di bei concerti. La novità per l'Umbria Jazz 2011 si chiama Prince, che sarà sul palco della manifestazione Umbra il prossimo 15 luglio 2011. Questa al momento sembra essere l'unica data italiana per Prince, che è stato inserito all'ultimo momento nel calendario dopo la dipartita di Natalie Cole. Per la precisione, Prince sarà in concerto all'Arena Santa Giuliana di Perugia a partire dalle ore 21, ma ancora non possiamo darvi informazioni sui biglietti e le pre-rendite. Rimedieremo non appena avremo modo. Ricordiamo che l'Umbria Jazz 2011 si svolgerà dal giorno 8 al giorno 17 luglio 2011 a Perugia e nel cartellone sono stati inseriti artisti storici di fama internazionale che attireranno fan vecchi e nuovi da ogni angolo della penisola. Nel programma della Kermess Perugina vediamo infatti i nomi di BB King, Liza Minelli, Carlos Santana, la Origina Bruce Brand, tra gli artisti italiani che si esibiranno all'Umbria Jazz Festival 2011 ci sono invece Danilo Rea, Flavio Bortro, Renato Sellani, Fankoff, Gianluca Petrella, Dado Moroni, Roberto Gatto, Giovanni Guidi, Francesco Berzatti, Franco D'Andrea, Stefano Di Battista, Claudio Fasoli, Gabriele Binabassi, Ramberto Ciammarughi, Marco Tamburini, Rosario Giuliani, Fabrizio Bosso, Francesco Capiso e Antonello Sallis. Per il programma completo del Festival potete dare un'occhiata al sito ufficiale umbriagazz.com dove sarà possibile visionare tutte le iniziative e le location dei concerti.